Buongiorno, è il Chef Antonio, oggi è lo speciale della casa, oggi è lo speciale del Chef musicale, con il primo ingrediente, il fometto della contrabassa, il contrabasso. E ora, una libra di tamburo e la batteria, la ricetta è molto bella, e per continuare questa ricetta, aggiungiamo la gitarra elettrica, la gitarra elettrica, bella, bella e buona. E metterà pur tutto l'imamma della terra, raggiutando l'armonica della musica buccia. Mamma mia, che se vuoi tre buone! Mamma mia, che se vuoi tre buone! E questa patata è fortissimo, la salsa! Uy, il l'antemante! Mamma mia! Mh, bella salsa! Se vuoi tre buone! Magnifique! Se vuoi tre buone! Uy, voi voi dire! Uy, voi voi dire! Se vuoi tre buone! Ma cosa vuoi tre buone! Se vuoi tre buone! Se vuoi tre buone! Se vuoi tre buone! Il l'antemante! Se vuoi tre buone! Se vuoi tre buone! E se vuoi tre buone! Si vuoi tre buone! Se vuoi tre buone! Dica se c'è la migliore ricetta del mondo Attenzione mettena le secrè d'Antonio Shhh, il fa pa' lo dire E le c'epizze speciale Che se passe? Me ce ne comprendo pas, purtanto ti è La contrabasso, la tambura, la gitarra elettrica, la saxofona La mandolina, la trompette, la corna musa La corna musa Ma chi ha messo la corda musa da ma risetta O ma saboteva la risetta O stato del tradizio E poveri da voci smirvi Antonio